Mister, un risultato di 6-0 frutto magari anche di un 3-0 a fine primo tempo che magari era un passivo un po' troppo pesante per la prestazione della squadra nella prima frazione? Sì, decisamente troppo pesante. Abbiamo avuto due episodi sfavorevoli che hanno condizionato sicuramente il nostro primo tempo. Provavamo partite molto bene e sapevamo che comunque la Fiorentina era una squadra molto forte, però andare sul passivo di 1-0 piuttosto che di 3 avrebbe cambiato sicuramente l'umore delle ragazze. Peccato per la partita, soprattutto un secondo tempo un po' più sottotono, però sapevamo che era molto difficile andarsela a giocare alla pari con la Fiorentina, anzi quasi impossibile. Ce l'abbiamo messa tutta, io sono contenta della prestazione e del carattere che ci hanno messo le ragazze. Adesso dobbiamo resettare e pensare direttamente alla partita di sabato. Ecco, moralmente magari era anche difficile rientrare sul 3-0, trovarsi sotto subito ancora 4-0. Quel rigore forse fosse stato dato su Molin poteva aiutare, sarebbe stato magari il gol del 2-1 se fosse stato realizzato? Sì, non possiamo stare qua a parlare dell'arbitraggio né di nulla. La partita è andata così, qualcuno vede qualcosa, qualcuno vede qualcos'altro. Io non sono qua a dire nulla su nessuno. È un peccato perché, come dicevamo, andare al riposo sull'1-0 piuttosto che con due rigori sul groppone sarebbe stata tutt'altra cosa. Niente, io sono comunque contenta della prestazione delle ragazze. Adesso dobbiamo andare a pensare alla partita più importante per noi che è quella di sabato con l'Atalanta. Come la quantifichiamo l'importanza della partita di sabato con l'Atalanta mozzanica? Adesso si apre veramente il momento clou del campionato? Sì, da qui, da sabato fino alla pausa di campionato, fino al 16 di febbraio, per noi ci sono due gare su tre che sono di primaria importanza. Quindi dovremo fare punti con l'Atalanta e cercare di mettere ancora del distacco tra noi e le ultime due della classifica.